Alex di Leonardo da Sella Nevea. Molto bene, abbiamo fatto un bel giro, abbiamo avuto fortuna con il tempo, la guida è stata brava, il porter anche, i posti dove ci siamo fermati a mangiare e dormire sono stati molto bene, tipici e comunque era quello che cercavamo. È davvero più grande che il Monte Rosa, è davvero bello. Mi chiamo Astrid e vengo da Italia, è stato molto bello e abbiamo visto molti persone, locali, 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 montagne. Sara Petozzi, vengo da Tarvisio, Camporosso. Il ring è stato molto bello, i portatori erano molto forti e la guida è molto simpatica. Abbiamo visto bei posti, montagne e abbiamo mangiato cose diverse.